Shop lezioni pratiche tutte gratuite torna anche in questo 2023 il festival di medicina integrata un evento che vuole divulgare la cultura del benessere e delle buone pratiche di vita integrando i principi delle medicine tradizionali orientali e occidentali con la medicina ufficiale all'opatica e con i trattamenti olistici un appuntamento sicuramente interessante che si terrà il prossimo fine settimana e che è stato presentato in una conferenza stampa alla presenza del sindaco di Foligno Stefano Zuccarini e dell'organizzatrice Cristiana Mariani Noi guardiamo sempre la medicina da occidentali solo sotto un punto di vista che è quello che è della nostra scienza siamo in questo un po' anche forse arroganti verso gli altri popoli poi negli anni abbiamo scoperto e non ultimamente con il covid è stata una grande esperienza da questo punto di vista che invece le medicine tradizionali che curano i popoli da secoli, da millenni sono un grande sostituto a volte in alcuni campi ma un grande sostegno anche alla medicina convenzionale ogni anno c'è un tema che cerchiamo di capire bene insieme perché in due giorni ovviamente è talmente vasto che è impossibile se no capire tutto e quest'anno sono le emozioni, le emozioni che ammalano, le emozioni che curano